avevo scritto un progetto per raccontare le due grandi tensioni della venezia di oggi il turismo nell'acqua alta e il 22 febbraio 2020 ero pronto per partire ma non potevo immaginare che cosa stava per succedermi tutti noi non potevamo immaginare che cosa stava per succederci sembra di essere tornati a 40 anni fa un canale del bacino canale la giudecca senza un'onda saranno stati boh millenni che il canale della giudecca non era così non ho mai capito se appartengo a venezia o no mio padre è cresciuto a venezia mio padre era silenzioso mia nonna ancora di più era come se di quella loro città mi nascondessero qualcosa che non capivo ma a dire il vero mio padre mi nascondeva molte cose era uno scienziato studiava i movimenti delle molecole i piccoli invisibili elementi naturali che non vediamo ma che determinano l'evoluzione del mondo che non vediamo ma che determinano l'evoluzione del mondo